Sarà una grande rischi bis quella che oggi in tribunale si è andata profilando. Si tratta del filone civile del procedimento penale principale che nell'ottobre dell'anno scorso si concluse con una sentenza di primo grado con la quale il giudice Marco Billi condannò i sette scienziati imputati a sei anni di reclusione, ad un maxi risarcimento danni e all'interdizione dei pubblici uffici, oltre che a quella legale. Una condanna dura andata ben al di là delle richieste dell'EPM Fabio Picuti che al termine della sua lunghissima requisitoria aveva chiesto per tutti gli imputati quattro anni di reclusione, aumentati al giudice poi a sei. Il processo civile aveva subito diversi rinvii, oltre ad aver cambiato il giudice passato da Guendalina Buccella a Maria Carmela Magarò. Proprio oggi nella prima udienza il giudice Magarò ha stabilito una sorta di calendario nelle testimonianze tra accusa e difesa. Tra i testimoni che dovranno essere ascoltati, i sette scienziati già connannati in primo grado e l'ex numero uno della protezione civile Guido Bertolaso appunto. Il giudice Magarò, nel corso dell'udienza odierna, durata circa un'ora e mezzo, ha deciso quale sarà il calendario delle tebosizioni. Il processo appena incardinato prenderà il via il prossimo 25 settembre, dopo la pausa estiva. Il giudice ha disposto l'ascolto di ben otto testimoni per udienza, fissando le date, in un giorno molto assonante con il processo penale conclusosi, ovvero il mercoledì giorno, nel quale anche il giudice Marco Billi ha tenuto tutte le udienze fittissime del procedimento penale. Magarò terrà udienza due mercoledì al mese, fino ad esaurimento dei testimoni. Il 25 settembre i primi a sedere sul banco dei testimoni saranno quelli dell'Avvocatura dello Stato, ma il nocciolo vero delle testimonianze inizierà non prima del 9 ottobre, quando prenderanno il via le audizioni dei testi dell'accusa, tra cui appunto nomi importanti già ascoltati nella fase penale del processo.